Promosso Stefano Caldoro, raggiunta in Regione Campania l'intesa per garantire stabilità all'Istituto Oncologico Pascale. Nell'intesa, avvenuta grazie anche all'intervento del numero 1 di Palazzo Santa Lucia, verranno delineate anche forme di collaborazione con altre aziende del servizio sanitario. Soddisfatto il governatore Caldoro, che sottolinea il suo massimo impegno nel garantire le eccellenze e una sanità a misura di cittadino. Bocciati i vandali ignoti che hanno imbrattato la lapide di Silvia Ruotolo. Scritta e disegni sono comparsi in questi giorni sul muro che ricorda la donna assassinata per errore assalita a Renella nel 1997 per mano della criminalità organizzata. Di fronte a questi atti ne scaturisce una secca bocciatura che non ha neanche bisogno di commenti ulteriori.